Ben trovati, 24 anni di servizio presso la cardiologia del Moscati per diversi anni naturalmente come medico dirigente e un bel po' di anni da primario. Io glielo ho detto in privato e adesso glielo dico in pubblico, a me dispiace moltissimo come Irpino il nostro ospite è il dottore Emilio Di Lorenzo, primario attuale, direttore della cardiologia del Moscati, a me dispiace moltissimo che lei se ne va a Napoli, avrà le sue ragioni, magari se vuole ce le può spiegare, a me dispiace moltissimo come Irpino perché lo sanno tutti che lei è stato, ed è ancora, fino a settembre sarà ancora al Moscati, è stata una colonna del Moscati, uno dei primari, dei diversi primari decisamente eccezionali, anche questo è il giudizio, mi pare di averlo sentito qualche volta, del direttore generale Pizzuti. Ecco, però oggi noi, io con lei vorrei parlare un po' del Moscati, della sua avventura o impresa al Moscati per ben 24 anni. Partirei proprio dall'inizio, lei è napoletano, come è arrivato al Moscati, come le è venuto di arrivare al Moscati? Diciamo anche perché va via, lei ha vinto un concorso per primario naturalmente al Monaldi e ha fatto quella scelta, poi magari se vuole ci dà una spiegazione, diversamente non è tenuto, assolutamente. Io sono entrato, venne al Moscati nel 2000, frequentando il primo anno sostanzialmente da volontario, da primario il dottore Rosato, poi partecipare al concorso ebbi la fortuna e devo dire dopo 24 anni l'onore di vincere il concorso e di lavorare in emodinamica. Pensai all'epoca io venivo da un ambiente universitario, venivo dalla Federico II, ebbi la sensazione che quella era la scelta giusta, significava viaggiare, significava un po' di disagio, poi ero molto giovane e ebbi la sensazione, non so se, con senno di poi dico razionale, ma l'istinto mi disse che quella era la scelta giusta ed è stata la scelta giusta. Cominciamo un'avventura che era la visione che è stata quella del dottore Rosato, quella di far diventare l'ospedale di Avellino, un'azienda ospedale di alta specialità, era nata la cardiochirurgia e quindi io che faccio un lavoro particolare, cioè mi occupo di un settore specifico della cardiologia che è l'emodinamica, nasceva con il dottore Sauro, che era il responsabile dell'emodinamica all'epoca, un percorso che oggi ci ha portato ad essere una cardiologia di rilievo nazionale con una visibilità internazionale dove siamo in grado di offrire qualsiasi tipo di procedura ai pazienti e aiutenti del nostro territorio. Certo, io lo so perché lei me l'ha detto che in questi 24 anni ha viaggiato e viaggiare da Avellino a Napoli, se fino al casello autostradale è naturalmente abbastanza agevole, poi dentro Napoli diventa un po' più complicato. Lei dove abita a Napoli? Io abito, devo fare tutta la tangenziale, quindi devo andare dall'altro lato, diciamo abito nella zona della collina di Posillico. Quanto le ha pesato? Perché di chilometri in 24 anni, oltretutto lei è uno di quelli là che lavorano sei giorni a settimana per dieci, undici, anche dodici, qualche volta anche più, mi hanno raccontato cose che io trovo assurde sul suo conto, cioè uno staccano vista senza uguali. Devo dire all'età che adesso tracciando un bilancio non mi ha pesato, nel senso che l'ho fatto veramente volentieri. È stato un disagio che ho speso bene, ovviamente una cosa è farlo a 35 anni, una cosa a 55. Non mi ritengo anziano, però il peso, il disagio, però devo dire all'età che non è stato mai un problema quello di viaggiare, sono sempre venuto e vengo ancora la mattina volentieri a lavorare, perché lavorare in questa azienda per me è stato e sarà sempre la fase più importante professionale della mia vita. Io ho dato tanto all'ospedale, l'ospedale ha dato tanto a me, quindi è stata una bellissima esperienza, quindi tutto il disagio della quotidianità... A questo punto però, non è che mi incuriosisce, è qualcosa in più, no? Glielo devo chiedere subito, ma perché se ne va? Che ci sta? Capiamo tutti che il Monaldi storico, grande ospedale napoletano può rappresentare la meta per tutti, ma lei perché se ne va? Io so che ha... Sua moglie è pure medico? Mia moglie, sì, è professore universitaria, la Federico Seppi, quindi siamo lì vicino. So che è un medico di altissimo livello, apprezzatissima nel mondo accademico. In realtà, direttore, lei sa, poi nella vita si fanno delle scelte, si colgono delle occasioni, come 24 anni fa colsi quest'occasione, che è stata un'occasione per me fondamentale. A parte una serie di motivazioni private che ovviamente non... No, no, quello non vogliamo sapere. No, ma annoierebbero pure. Si è paventata questa possibilità, è andata bene, ho avuto la fortuna e l'onore di vincere questa selezione come direttore della cardiologia del Monaldi in una struttura che rappresenta storicamente il punto di riferimento regionale, perché il Monaldi è l'ospedale che è il centro tra pianti. E consideri che uno dei miei obiettivi in questi 24 anni di lavoro qui, mio e dei colleghi che hanno lavorato con me, era quello di non trasferire mai più un paziente al di fuori del Moscati. E ci siamo riusciti da anni a fare questo, noi riusciamo a curare tutto, tranne i pazienti che hanno una necessità di andare in un percorso che è quello della valutazione per il trapianto. Quindi l'unico ospedale a cui noi trasferiamo a volte dei pazienti è il Monaldi. Per me la valuto come un'occasione professionale, 56 anni è una sfida che mi va di intraprendere. Ovviamente nella mia città, io con il motorino ci metto 7 minuti, sicuramente il disagio del spostamento si riduce moltissimo, ma onestamente conta, però nella vita si fanno delle scelte. Ora a volte c'è anche un po' di azzardo, però le cose io sono un po' così, sono istintivo. Lo feci istintivamente Avellino e feci bene. Adesso il mio cervello, il cuore mi ha detto che dovevo tornare nella mia città in una posizione importante e vado a fare questo. Mi hanno detto, dottore, mi hanno detto di lei, mi correga se ogni tanto si dicono anche cose non proprio vere, ma che se si dicono si avvicinano alla verità. Che lei, oltre ad essere uno stacanovista, l'abbiamo detto, oltre ad essere un professionista nel suo campo oggettivamente straordinario, ha anche una qualità che io dico che è straordinaria, la qualità di gestione, di gestione del personale, non soltanto del paziente, di gestione di un reparto così importante, così delicato, così complesso come è la cardiologia. però è anche un tantino, un po' troppo modesto, cioè non si riconosce i suoi meriti, è così che stanno le cose, no? Io non voglio essere retorico, noi siamo dei dirigenti pubblici, abbiamo, soprattutto quando assumi una posizione apicale è una responsabilità, la responsabilità è quella di erogare un servizio che sia il migliore possibile. Questo lo puoi fare se hai la possibilità di avere un gruppo di persone che viaggiano allo stesso modo. Qui approfitto perché io devo dare atto all'attuale direzione strategica del dottore Pizzuti, del dottore Lanzetta, della dottoressa Di Biase adesso e del dottore Perito nel mandato precedente, che ci hanno dato la possibilità di crescere quantitativamente come personale, ma non è tanto quello, ma ci hanno dato la possibilità di selezionare e scegliere il personale senza nessun tipo di interferenza, ma soprattutto inserendolo in un discorso di competenze, di scegliere personale giovane che avesse delle competenze motivati e questo è un grande merito che io devo riconoscere al dottore Pizzuti e la sua direzione strategica, che è stata per la cardiologia, ma è stato per la cardiochirurgia, per la chirurgia vascolare, parlando del Dipartimento Cuore e Vasi, ma anche nelle altre aree. Questo sembra poco, ma non lo è, perché i professionisti non contano solo quanti sono, perché uno non vale uno, direttore, conta anche quali sono. E io ho avuto la possibilità di formare un gruppo che tra valenze mi lascia assolutamente certo che quello che abbiamo creato in questi 24 anni continuerà. Al proposito di formare un gruppo, è una cosa che avevo la curiosità di chiederglielo, anche perché dei medici, di tutti i medici, soprattutto degli specialisti, si dicono tante cose. Ad esempio si dice che c'è un egoismo molto molto forte nei grandi professionisti, come lei, per trasferire il sapere, per trasferire un po' anche l'esperienza. Dice, è meglio che questo non cresce, perché eccetera, eccetera. Mi hanno detto che non è il suo caso, perché lei ha fatto molta formazione. Ma la domanda è, che cardiologia lascia? Che tipo di cardiologia lascia? C'è quanto è cresciuta e quanto è autonoma, se è vero che ha trasferito certe professionalità, quanto è autonoma, può essere autonoma la cardiologia del Moscati senza il dottor Emilio Di Lorenzo? Le rispondo, dopo con qualche dettaglio, ma le rispondo con una frase che io dico ai pazienti. Io dico sempre ai pazienti, lo dico perché ci credo. A volte, sa, quando facciamo i colloqui con i pazienti, io parlo spesso con i pazienti, mi chiedono, dottore, ma mi opera lei? Io quando mi chiedono questo, dico ai pazienti, quando voi andate in una struttura sanitaria e quella prestazione a cui dovete essere sottoposti dipende dalla presenza o dall'assenza di una persona, dovete andare via subito. Dovete andare via subito, perché se non funziona il sistema, quello non è un buon posto. Perché se la qualità delle prestazioni che noi eroghiamo nel reparto dovesse dipendere esclusivamente dalla mia presenza, io non avrei fatto un buon lavoro. Il mio reparto funziona bene anche quando sono in ferie. Le prestazioni, che sono quelle che faccio io direttamente, le fanno tutti i miei colleghi a cui ho trasferito io, i miei colleghi che hanno avuto da me l'hanno trasferito a quelli più giovani, quindi la mia presenza, da un punto di vista pratico, nelle prestazioni non è indispensabile, perché abbiamo cercato in questi anni di creare un sistema che funzionasse. E quindi il gruppo che gestisce il paziente. L'egoismo di cui parlava lei purtroppo esiste, ma lì dove esiste quei sistemi non funzionano bene, perché un uomo solo al comando in medicina non funziona. Lei diceva prima che ha voluto ringraziare la direzione strategica, specialmente questa ultima direzione strategica, perché lei insieme ad altri avete avuto la possibilità di fare delle cose. Ecco, le innovazioni che sono state possibili, anche perché poi le innovazioni si fanno in parallelo al mutamento dei tempi, e quindi anche al di là, voglio dire, dell'attuale direzione strategica, anche al di là, insomma, i tempi, certe innovazioni arrivano piano piano, eccetera. Che cosa ha voluto e ha potuto fare al Moscati, grazie anche alla libertà di azione che le ha dato la direzione strategica, in questi ultimi, diciamo negli ultimi 7-8 anni, che poi sono quelli più importanti per la complessità di determinate tecnologie, da una parte, ma anche di determinati interventi da fare in altri campi. Allora, quello che noi abbiamo fatto, diciamo, se devo fare una sintesi, i due grossi momenti di crescita della cardiologia del Moscati, il primo è stato in realtà con il dottore Rosato, quando abbiamo avviato per primo in Campania, un vero sistema di emergenze territoriali per la gestione del paziente con l'infarto. Rosato direttore generale o Rosato campionato? Rosato primario e Rosato direttore generale. Lì partimmo con quello che era la cosa più importante che noi facciamo ancora adesso, cioè quello che gestire i pazienti che hanno delle emergenze coronariche, quindi procedure, salvavita. Che poi significa salvare le vite? Salvare le vite. Il paziente ha l'infarto, arriva il Moscati, viene trattato in tempi che non dico io, lo dicono i flussi informativi, sono quelli delle linee guida. Quindi quella è stata la prima cosa importante. Dopo, come diceva lei, le cose evolvono, quindi la cardiologia in particolare negli ultimi dieci anni ha avuto una evoluzione enorme da un punto di vista tecnologico, per cui oggi c'è la possibilità di trattare delle patologie che prima era impossibile trattare, o si potevano trattare solo in modi molto aggressivi. Oggi ci sono delle tecniche meno invasive che ovviamente richiedono enormi competenze, richiedono un setting di sistema molto complesso, quindi molte competenze che vanno al di là del singolo operatore che fa la procedura, e ovviamente richiedono risorse economiche, quindi bisogna acquistare dispositivi che costano. E quindi quello che è la direzione strategica, da quando io sono primario, e quindi anche la direzione del dottore Percopo, che era il direttore generale quando io sono diventato primario, e questa hanno sostanzialmente consentito di assecondare questo progresso, che oggi è arrivato a, devo dire, a un completamento, il completamento non esiste mai, perché domani sarà un passo in avanti in più. Il dottore Pizzuti, lo dico perché non è questa una cosa che non è, è un progresso che non c'è stato solo in cardiologia. Il Moscati negli ultimi cinque anni è cresciuto moltissimo, abbiamo la chirurgia robotizzata, la cardiochirurgia ha fatto passi in avanti, noi abbiamo, noi siamo cresciuti perché la direzione strategica ha secondato quelli che erano i nostri, la nostra programmazione e strutturazione di quella che è la missione di un reparto in un'azienda ospedaliera, quindi la direzione strategica ci è stata vicina nella tecnologia, nel personale, nelle risorse, nel consentirci di fare quello che oggi noi riusciamo a fare per i nostri pazienti. Ho sentito qualche volta da lei parlare ultimamente, ultimamente insomma penso circa setto, otto mesi fa, in un nostro telegiornale, era il trattamento delle aritmie, compresse. Ecco questa è una innovazione fatta con la sua gestione della... Questa devo dire la vita me la attribuisco, perché era un'area, quando io sono diventato primario era un'area carente al Moscati, oggettivamente, ed è un'area importante perché il trattamento delle patologie aritmiche, noi la definiamo la terapia elettrica del cuore, il cuore ha due grosse cose, una componente idraulica... Potremmo dire a chi non è medico e manco tanto scientificamente attrezzato, di che si tratta? Sono fondamentalmente delle... Cioè quanto è importante? È importante perché molte patologie aritmi, a parte quelle che sono più facilmente comprensibili, che sono quelle che portano ad esempio i pazienti a impiantare il pacemaker, ma quello, voglio dire, è la base. Noi oggi siamo in grado di trattare con il team dei nostri aritmologi delle aritmie complesse che mettono, che complicano spesso alcune altre patologie, mettendo a rischio serio di morte il paziente, soprattutto di morte improvvisa, o di rischi di aggravamento e peggioramento di patologie esistenti. È un campo molto complesso che, devo dire, le strutture pubbliche in generale in Italia sono molto carenti, è un campo in cui noi abbiamo creduto molto e anche lì le direzioni ci sono state vicino perché abbiamo avuto la possibilità di incamerare il personale che ha quella competenza e di avere la tecnologia che ci consente di far sì che quella competenza possa trasformarsi in una prestazione. Senta, le patologie valvolari, anche qui, i pazienti con patologie valvolari, anche qui siete intervenuti in maniera massiccia. In poche parole ce lo spiega che cos'è? Sì, le patologie delle valvole cardiache erano delle patologie che storicamente venivano trattate con l'intervento di cardiochirurgia tradizionale. Quindi addormento il paziente, devo aprire lo sterno e via disco, è cosa che si fa ancora. Però esistono oggi delle tecniche mini-invasive che ci consentono di curare tutte le patologie valvolari, delle valvole più importanti, la orta, la mitrale, la tricuspide, con delle tecniche che sono molto meno aggressive per il paziente. Sono molto più complicate da eseguire, ma sono molto meno invasive e ci consentono di trattare più pazienti, quindi di dare una possibilità di qualità e quantità di vita a più pazienti rispetto a prima e di trattare una tipologia di pazienti che prima veniva scartata. Questo richiede uno sforzo enorme. Io devo dire che con il nostro gruppo abbiamo messo su dei protocolli di gestione di questi pazienti che sono diventati, insieme, abbiamo fatto una comunità con altri due centri molto importanti italiani del nord e abbiamo creato uno standard di riferimento oggi nazionale che serve per la gestione di questi pazienti, cioè per la presa in carico per la fase operatoria e per il post-operatorio. Senta, 24 anni in una città, nello stesso ospedale, sono davvero tanti, no? Per farsi comunque una opinione sul sistema, sul sistema ospedaliero, ospedaliero, in questo caso appunto ospedale Moscati, che cosa lascia? Che cosa lascia Di Lorenzo qui, no? Perché io insisto sull'argomento, se sta così bene perché se ne va. Lei ce l'ha spiegato e quindi va bene così. Ma che cosa lascia? Che ospedale abbiamo a Avellino? Mi fa molto piacere questa domanda perché le dico con onestà che sarà una mia percezione sbagliata, ma la dico perché è quello che penso. Prima di tutto penso che l'ospedale di Moscati sia assolutamente una struttura che eroga prestazioni secondo uno standard ottimo. Cioè i cittadini della provincia di Avellino possono essere fieri e convinti che l'ospedale di Moscati dà una risposta che è stata sempre una buona risposta, ma che è cresciuta tantissimo nel tempo. Oggi l'ospedale mediamente dà una buona risposta in qualsiasi ambito. Negli ultimi anni si è completato anche un circuito, si sono aperti dei reparti che prima non c'erano, come la chirurgia toracica ad esempio, che oggi consente sostanzialmente di poter erogare, di poter assistere i pazienti completamente in tutte le patologie con una competenza molto alta. L'ospedale di Moscati è sicuramente una realtà molto importante nel panorama regionale. è un ospedale che ha una visibilità ormai nazionale in moltissime aree, non solo la cardiologia, ma in moltissime aree l'ospedale Moscati è convinto. I cittadini avellinesi della provincia devono avere questa percezione. A volte si trasmette un'immagine che non corrisponde al realtà. io a volte sento e leggo delle stupidaggini dette e pronunciate o scritte da chi non conosce come funziona il sistema sanitario. Quella robetta così non è un problema. No, è un peccato perché... Se no, ne sono perfettamente convinto anche perché noi ci sforziamo di fare un'informazione innanzitutto corretta, veritiere, eccetera. e abbiamo un'opinione molto buona del Moscati. Senta, glielo chiedevo però prima che cosa è questo Moscati oggi perché lei aveva accennato al pubblico. Cioè nel pubblico certe cose come ad esempio le terapie, le cure per le patologie, pazienti con patologie valvolari, non si fa molto molto nel pubblico. Ma era per farle questa domanda. In breve. Lei sa che c'è questo dibattito, no? Che si sta anche intensificando. La preoccupazione è che il pubblico possa cedere troppo spazio al privato in Italia. C'è questa preoccupazione? Secondo lei è fondata, è illegittima? Bisogna fare qualche cosa per tentare di fermare? C'è un equivoco di base quando si parla di privato. Il privato a cui si fa riferimento in realtà non è un privato. Sono delle società private che lavorano con i soldi pubblici però. Quindi è... Privato convenzionato. Esatto. Quindi fondamentalmente non è un privato. È qualcosa che lavora comunque, lavora e deve lavorare per conto del servizio sanitario regionale. Quindi lavora con i soldi pubblici. Il problema vero non è un sistema di concorrenzialità secondo me è utile. Non è chi prende più spazio. Il problema è che bisogna lavorare con le stesse regole. Il privato accreditato deve lavorare con le regole del pubblico. Altrimenti si crea un doppio binario dove con gli stessi fondi, con le stesse risorse c'è qualcuno che lavora con il freno a mano perché bisogna rispettare delle regole giuste. Selezioni, acquisizioni di beni materiali e qualcuno che invece può lavorare con i stessi soldi pubblici senza avere vincoli e freni. Allora il sistema deve essere con delle regole che devono essere identiche per il pubblico e il privato. Poi la concorrenza è corretta che non sono preclusivo. Un buon sistema privato accreditato che funzioni e serve all'utente ben venga. Certo. Io ho conservato la domandina così di rito che è un po' anche la sintesi dell'ammarcord. Ne abbiamo parlato poco ma abbiamo parlato di cose importanti. E la domandina di rito è con che animo se ne va. Se ne andrà il primo settembre. Cioè punta di malinconia, di tristezza, con soddisfazione, con gratificazione, con amarezza, come se ne va? Con amarezza no. La malinconia c'è perché io Avellino non lascio perché tornerò sicuramente. Ho tanti amici. Io mi sento avellinese. Ho tantissimi amici, conosco tanta gente. Ci sono creati rapporti personali con tante persone. Un po' di malinconia c'è. Però io ho fatto una scelta. Certo non vado via così ridendo e scherzando però ho fatto una scelta che credo sia la scelta giusta. l'ho fatta sapendo con responsabilità di lasciare una struttura che camminerà anche senza la mia presenza. Entro proprio in punta di piedi in casa sua. sua moglie è un'accademica professoressa universitaria alla Federico II medica e c'è in che cosa è specializzata? In cardiologia. In cardiologia. Ecco. Allora c'è competizione in casa? Cioè vi scontrate mai su qualche cosa? No si discute. Che poi sa con i napoletani ma battute viene anche facile parlando di cuore. Si discute non so cosa succederà tra qualche mese perché tra Valenzi io andrò a lavorare in una struttura che storicamente è in competizione con quella con cui lavora mia moglie perché io vado al Monaldo e mia moglie lavora a Federico II però questa è una battuta diciamo noi ci si cerca di ricondividere un percorso professionale. Era soltanto una curiosità. Grazie al dottore Emilio Di Lorenzo grazie a lei. del Moscati primario della cardiologia del Moscati che dal primo settembre sarà al Monaldi di Napoli io credo di interpretare un po' i sentimenti degli irpini che hanno avuto modo di conoscerla credo di interpretare i loro sentimenti dicendo grazie un grazie convinto per l'opera che il dottore Di Lorenzo ha prestato in questa città in questa provincia per ben 24 anni naturalmente auguri di buon lavoro per il prossimo incarico che andrà a ricoprire arrivederci con i prossimi speciali di ITV che andrà a ricoprire